Grazie ai nuovi servizi online resi disponibili sul sito del Comune di Napoli, è possibile accedere alle proprie informazioni anagrafiche e tributarie e verificare la propria posizione amministrativa direttamente da casa. Per registrarsi ai servizi online è necessario effettuare pochi e semplici passaggi. Collegarsi al sito www.comune.napoli.it Cliccare su Servizi online e su Accedi ai servizi online Premere il tasto Registrazione ed assicurarsi di effettuare una scelta tra le due proposte. Compilare i dati anagrafici per la registrazione Scaricare e salvare il documento Il documento così prodotto andrà stampato, firmato ed inviato via mail all'indirizzo servizi online chiocciolacomune.napoli.it allegando copia di un valido documento di riconoscimento La conferma di avvenuta registrazione ti sarà inviata tramite mail di notifica all'indirizzo indicato Nei prossimi mesi i servizi online saranno potenziati con nuove funzionalità come ad esempio le autocertificazioni permettendoti di gestire il tuo profilo amministrativo evitando lunghe code agli sportelli Il documento di riconoscimento